I capelli crescono in media un centimetro o un centimetro e mezzo al mese. Per accelerare la loro ricrescita e aumentarne il volume, iniziate a utilizzare uno shampoo trattante e fortificante. Completatelo con una maschera intensiva che rafforza la fibra capillare. Non superate i due shampoo a settimana e tagliate un centimetro della vostra chioma ogni tre mesi. Applicate una volta alla settimana un olio nutritivo e fatevi fare un massaggio del cuoio capelluto. Oltre alla sensazione di benessere, il massaggio favorisce il flusso sanguigno verso le radici, stimolando la ricrescita. Per capelli secchi o sfruttati, l'olio di argan, di cocco, di mandorle dolci oppure l'olio di oliva sono particolarmente raccomandati. Lasciate l'imposa almeno per 30 minuti. Altro trucco, mescolate 5 gocce di olio essenziale di rosmarino al vostro shampoo specifico. Rafforzerai i capelli favorendo la crescita. Optate altresì per una spazzola dalle spatole molto morbide. Sfrutterà meno i capelli districandoli più facilmente. Evitate di utilizzare il fono o la piastra troppo vicino alla testa e troppo spesso. Utilizzate preparati speciali al lievito di birra, ricchi di sali minerali e oligominerali, che proteggono i capelli dall'interno. Infine, non dimenticate che la ricrescita rapida dei capelli risiede innanzitutto in una buona igiene del cuoio capelluto, in un'ottima alimentazione e nell'applicazione di preparati riparatori.